Buongiorno a tutti, sono qui sull'arrivo storico del Giro del Belvedere a Villa di Villa. Quest'anno ho un'edizione particolare, la centesima da quando è nato il Giro. Sarà un'edizione particolare, come ho detto, perché il percorso subirà un cambiamento e passerà per casa mia e quindi a breve vi porterò a vedere questa novità. Ecco, ci siamo allora sul nuovo strappo, fatalità, ma siamo giusto davanti a casa mia. Quindi è una salita breve e con picchi al 15% molto impegnativi. Adesso faremo la parte più impegnativa di questo nuovo circuito. La strada è bella, l'hanno prima asfaltata, perciò si fa volentieri. Ecco, qui siamo in pendenze superiori al 15%. Eccoci sull'ultima rampa. Ecco, per riassumere, il circuito qui lo trovo molto molto bello, soprattutto perché, come dicevo prima, sicuramente non decreterà il vincitore della corsa, del Belvedere, ma arriveranno sul Canalet molto molto stanchi, quindi questo farà sì che sul Canalet vedremo un bel spettacolo. Grazie. Grazie. Grazie.